Arma dei Carabinieri in festa anche a Salerno per il 205esimo annuale di fondazione. Stamane all'interno della caserma Pezzuto Arena, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, si è svolta la cerimonia per la celebrazione della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, alla quale hanno preso parte autorità civili, militari e religiose. A presiedere la festa, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Antonino Neosi ha la sua ultima festa al Comando di Salerno perché dopo tre anni a settembre assumerà un nuovo incarico al Comando Generale di Roma. Tutti schierati nel piazzale, comandanti di compagnia, comandanti di stazione, militari del Comando Provinciale, nonché una rappresentanza delle specialità dell'Arma con la cornice di alcuni mezzi in dotazione ai diversi reparti. Nel corso del suo intervento, il Comandante Provinciale dell'Arma, il colonnello Antonino Neosi, ha posto in evidenza l'impegno quotidiano che i Carabinieri offrono al servizio della collettività, sia come punto di riferimento per il cittadino attraverso una profondazione di vicinanza alla popolazione, sia nel contrasto alle varie forme di criminalità comune ed organizzata. Il Comandante Provinciale ha evidenziato l'impegno profuso sul versante della prevenzione con una capillare attività di vigilanza svolta nei 158 comuni della provincia salernitana. I reati predatori sono in leggero calo, ma molto sentiti dalla popolazione. Nel corso dell'ultimo anno sono state concluse varie indagini, con particolare riguardo ai furti, che hanno consentito di trarre in arresto i componenti italiani ed extracomunitari di diversi gruppi delinquenziali, autori di numerosi furti in abitazione, esercizi commerciali e aziende agricoli perpetrati in tutto il territorio provinciale dell'Agrono Icerino Sarnese, al Cilento, al Vallo di Diano e persino in località di altre province campane. Grazie ad una profondità analisi investigativa sono state individuate tre distinti associazioni per delinquere operanti in Campania e in altri comuni del territorio nazionale, accertando complessivamente circa 150 episodi di truffa in danno di anziani, la maggior parte dei quali consumati in provincia di Salerno. Anche con riferimento alle varie forme di violenza di genere a cui l'arma attribuisce sempre grande attenzione, i reparti del comando provinciale hanno profuso il massimo sforzo, riuscendo ad assicurare alla giustizia gli autori di efferati delitti avvenuti quasi sempre tra le mura domestiche. Anche per noi è estremamente significativo questo giorno, non soltanto perché sono 205 anni di storia della nostra istituzione, ma anche perché ancora una volta abbiamo la possibilità di sentire in maniera tan digibile la vicinanza della popolazione, perché del resto questa è una festa che è soprattutto fatta per la popolazione, vista la vicinanza che ha da sempre la nostra istituzione con il territorio. La festa è anche l'occasione per testimonare il lavoro dei diversi comandi della provincia di Salerno, l'occasione per fare anche un bilancio delle attività svolte e capire un attimino qual è la situazione della criminalità in provincia di Salerno. Questo sicuramente, questo sicuramente io mi sento di dire che è un bilancio in ogni caso positivo, perché quello che conta è soprattutto la percezione di sicurezza che deve avere la popolazione. In quest'anno l'attività operativa è stata molto incessante, ha dato dei risultati importanti. Come ben sapete la situazione della provincia di Salerno è variegata, partendo dall'agronocerino sarnese fino ad arrivare al Cilento. In ogni caso noi abbiamo cercato sempre di perseguire quei reati predatori e quei reati che creavano maggiore allarme sociale. Siamo riusciti a ottenere dei risultati di livello molto importante in ogni settore, sia dal punto di vista dei reati proprio predatori come i furti, le rapine, anzi ultimamente sono stati presi in flagranza dei reati dei rapinatori proprio nella zona del Cilento. Nello stesso tempo è stata fatta un'azione incessante nel campo delle sostanze stupefacenti, ripetute azioni che hanno portato a degli eccellenti risultati anche sulla città di Salerno e hanno testimoniato ancora una volta come il problema del traffico e dello spaccio delle sostanze stupefacenti sia molto presente all'interno del territorio. Noi cerchiamo in ogni caso di svolgere soprattutto un'attività preventiva perché è la cosa più importante e quindi è necessario mettere in campo quante più pattuglie possibili perché è evidente che la cittadinanza quando vede i carabinieri in giro si sente sicuramente più tranquilla. Comandante questa per lei è l'ultima festa dei carabinieri qui al comando provinciale di Salerno pronto per un nuovo incarico e una nuova promozione? Sì sicuramente per me questo è il terzo anno qui a Salerno, andrò via a settembre e lascerò comunque un pezzo del mio cuore anche a Salerno.